Si è concluso con una bella ed emozionante cerimonia il progetto di alfabetizzazione digitale promosso dall'ambito territoriale e sociale 6 di Fano, in collaborazione con la Proloco Fan Fortune, i circoli recreativi per anziani e il liceo scientifico Torelli di Fano Pergola. Il progetto, realizzato nei mesi di marzo e aprile, ha visto coinvolti 34 alunni che sono saliti in cattedra per trasmettere alle persone della terza età le competenze base dei più moderni strumenti informatici, facendo acquisire loro maggior dimestichezza con l'uso dei dispositivi digitali a partire dagli smartphone. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di promozione della longevità attiva Old Bat Gold, che il comune di Fano ha avviato da più di tre anni al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità, incentivandone le capacità e promuovendone la partecipazione alla vita sociale. In particolare sono stati 57 gli anziani coinvolti in questa bella esperienza di scambio intergenerazionale e di arricchimento reciproco, umano, ancor prima che professionale. Ed è stato bello vedere nei quattro circoli in cui queste lezioni si sono svolte, ma più che lezioni erano delle costruzioni di relazioni, di connessioni. Durante la pandemia, l'abbiamo visto, l'isolamento, il distanziamento è stato anche in parte abbattuto grazie all'utilizzo di questi strumenti. Quindi promuovere l'inclusione digitale è anche un modo per promuovere l'inclusione sociale, l'aggregazione. Noi lo stiamo facendo con tante iniziative. Questa è soprattutto importante per il valore di scambio intergenerazionale che cerchiamo di promuovere di continuo con il progetto Old Bad Gold. E poi devo ringraziare davvero in questo caso la scuola per aver colto il valore importante di questo progetto. All'evento conclusivo che si è tenuto martedì 30 maggio nella palestra del liceo sono state consegnate ai giovani delle magliette confezionate per l'occasione dalla scuola e dal comune, mentre agli anziani degli attestati di partecipazione al corso progettati dagli stessi ragazzi. Un segno di ringraziamento e un bel ricordo di questa felice esperienza. Non meno coinvolgente il video che è stato realizzato dagli studenti e che ripropone e riassume i momenti più significativi dell'iniziativa. I ragazzi hanno vissuto un'esperienza formativa con una ricaduta anche sul piano umano. Quindi quando mi descrivevano l'esperienza, prof, la mia anziana mi ha chiesto lo speed e noi ancora non l'abbiamo fatto perché noi non ce l'abbiamo, eccetera. Mi ha colpito non tanto il contenuto che mi stavano chiedendo, quanto come si rivolgevano agli anziani, il mio anziano. Quindi questo dice tutto. Dalla parte invece degli anziani avete avuto qualche feedback su come l'hanno loro passata questa esperienza? Loro erano molto contenti di vivere questa esperienza e nei momenti in cui i ragazzi erano nei circoli erano molto attenti, offrivano loro da bere. Durante le festività hanno fatto dei piccoli pensieri, un uovo di Pasqua, un oggettino. Quindi immagino che anche gli anziani siano stati coinvolti e abbiano avuto anche loro un senso di appartenenza. Grazie.